La Lega Nord scende ancora una volta in campo per difendere i lavoratori frontalieri e i territori. Il governo Renzi sta assaltando i nostri territori, la Lombardia, perché utilizza sistematicamente il nostro territorio quale Bancomat. L'accordo fatto con la Confederazione Elvetica è un grosso problema. I lavoratori frontalieri pagheranno più tasse e i territori di confine, i nostri comuni, non hanno più la garanzia di ricevere i famosi ristorni come si ricevevano prima dalla Confederazione Elvetica. Per cui oggi abbiamo fatto una conferenza stampa con la quale abbiamo voluto chiarire qual è la nostra posizione. Da subito abbiamo fatto una mozione sia Camera e Senato per contrastare questo provvedimento. Aspettiamo che in Parlamento arrivi questo benedetto accordo per poterlo emendare e sui territori faremo un'azione di sensibilizzazione alla popolazione diretta ai lavoratori e ai comuni per far capire quali sono le nostre intenzioni e per far capire da chi ci dobbiamo difendere, sempre e comunque dal governo Renzi.